Detto questo oggi affrontiamo un tema che le cronache sia italiane sia estere è un tema di grandissima attualità. Abbiamo il piacere di poterne parlare con Nicola Molteni che è il sottosegretario del Ministero dell'Interno, con Gian Andrea Gaiani che è esperto di tante cose, con Daniele Scalea che è il presidente del Centro Studi di Machiavelli che qui ci ospita e io faccio il buon moderatore, dirò poche cose e piglio spunto per aprire i lavori da un recente viaggio che ho fatto per l'Assemblea parlamentare della Nato al confine tra Bielorussia e Lituania. Perché cito questo episodio? Non tanto perché è di stretta attualità con il fatto che il Lukashenko, padre padrone della Bielorussia, per fini politici, qualcuno specula anche spalleggiato da Putin per mettere in difficoltà l'Unione Europea, ha organizzato un sacco di voli dall'Iraq, dalla Siria, dagli Emirati, dalla Turchia, da Istanbul, tra l'altro raddoppiando anche la capacità degli aerei, noleggiandoli di nuovo per spingere poi tutte queste persone che sono di nazionalità, quasi tutti iracheni, siriani, afghani, ma anche pakistani, bangladesci, congolesi, somali, quindi anche nazionalità che non è proprio il giro naturale andare fino in Iraq per poi venire in... ebbene parlando con il ministro degli esteri lituano Landsbergis, uno a uno quindi in maniera un po' più informale, dice no devo dire che meno male grazie a noi, noi baltici e noi polacchi che l'agenda del Consiglio Europeo ha finalmente all'ordine del giorno nel problema migratorio. Allora la domanda che poi potranno svolgere tutti è... io avevo capito che nella retorica e nella discussione politica italiana fosse stata l'Italia a mettere all'ordine del giorno del Consiglio Europeo la questione migratoria, apprendo nella discussione che... insomma il ministro degli esteri è Landsbergis, quindi non un ministro dell'interno ma un ministro degli esteri, per cui capite che il problema non è solo di... un problema di interni, ma è un problema di esteri, di difesa, di sicurezza, di intelligence, quindi è un problema molto più complesso. E Landsbergis dice sì sì io ne ho parlato con i colleghi italiani, ma i colleghi italiani non sentono una emergenza o una pressione e questo è già un fatto politico che su, voglio dire, le cronache politiche non ci sono, stiamo parlando di questi giorni. L'altro aspetto interessante è che, non detto esplicitamente perché non può essere detto, però i baltici e i polacchi si sono rivolti al tavolo europeo e come l'Italia ha potuto notare dal 2015 in poi una soluzione europea in ambito di Unione Europea è complicata da trovare perché le sensibilità sono differenti e allora qui viene la, secondo me, la genialità di un paese che vuole essere sovrano, di un paese che vuole affrontare il problema e lo vuole risolvere. I numeri che la Lituania ma anche la Polonia stanno affrontando sono niente in confronto ai numeri che dobbiamo gestire noi. Però polacchi, lituani e baltici hanno affrontato il problema utilizzando tutti gli strumenti che hanno. Gli strumenti che hanno loro si sono guardati intorno, se l'Unione Europea non funziona con un atto che è tecnicamente diciamo vero, loro cosa hanno detto? Ci abbiamo, qual è un ottimo strumento, un'ottima presenza? La Nato e quindi hanno attivato, diciamo, consultazioni informali in ambito Nato per cui in tutti i vertici formali e informali che stanno avvenendo in questi giorni si parla di un atto di guerra ibrida da parte dell'Est e come tale è giusto che ci sia, siccome questo atto di guerra ibrida, mandare i migranti è una forma di destabilizzazione di un paese non tanto minandone, voglio dire, l'integrità territoriale ma destabilizzandone le istituzioni e come tale è un vero e proprio atto di guerra o comunque un atto minaccioso. Una discussione come questa in Italia non si è mai voluta affrontare, è vero che il nemico non è identificabile come può essere la Bielorussia, quindi un attore statuale, però è del tutto evidente che in flussi di migranti che abbiamo avuto noi con l'eccezione del 2018 e 2019, guarda caso quando c'era un signore che si chiamava Matteo Salvini, ministro dell'interno e mi sembra che qua due autorevoli interlocutori fossero anche loro a quel ministero dell'interno durante quella fase, non si è mai voluto a qualificare, lui come sottosegretario, un altro come autorevole consulente, non si è mai però voluto prendere il fatto che limitare le capacità decisionali di uno Stato, quindi limitarne sia le politiche interne che la capacità di agire sulla politica estera è di fatto una forma di attacco, una forma di minaccia alla stabilità di un paese. Questa discussione in Italia non c'è mai stata, credo che utilizzare l'esempio lituano possa essere, voglio dire, il viatico per affrontare questa discussione e cercare di capire che il problema migratorio non è solo la questione sbarco, è una questione complessiva di sicurezza del paese, di sicurezza dell'Unione Europea che vede coinvolti tanti attori che come dicevo prima devono essere dalla difesa sicuramente gli interni, l'intelligence, il ministero degli esteri e non dobbiamo dimenticare anche i ministeri economici, perché parliamoci chiaro, senza i ministeri economici tanti tipi di attività, il famoso creare economie alternative in certi oasi di passaggio dove vengono fatti passare i migranti, beh se te non hai l'incentivo economico a far passare il migrante perché la tua economia o sovvenzionata o reale che sia è tale per cui tu scegli altro, probabilmente qualche migliaio di migranti arriva in meno.